Vabbè, sei il calciatore medio della regina, non ti preoccupare. Se ci vai ti metto sicuramente il titolare. Ora Marco, neanche il bagger, porca puttana. Gran colpo d'attacco. Quanto state? Brava coppia più forte. L'appoggio fatto bene. Errore nasce dal tuo primo appoggio, non dalle due mani. E' un punto che mi ha perso lì. Perché devi stare in campo? Se nessuno entra in campo, quello che ti fa. Borsiglio, quanto state? Pierretti, quanto state? Hai due punti, credo di essere pronto. Devi stare in equilibrio senza buttarti in terra. Se ti butti in terra mentre gestisci in terra, schizzi la tua direzione tu. Bravissimo, Foroni. Severo ma giusto. Poggio da me. Se vai con un braccio steso a cazzo non funziona mai. Ha controllato, è una difesa. Preparo prima le braccia, Borsiglietti. Se vai qui, attaccate al corpo. Poi quando colpisci viene in un'esplosione. Stai cascando, Pierretti. Non c'è qui. 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 Questo è niente di più, niente di meno del tuo movimento di scatto quando fai il bai. Con il tuo braccio lo controlli. Con uno viene questo. Questo è il tuo movimento classico. Non c'è niente di diverso al solito. Ti sto mostrando quanto si è sbagliato il tuo movimento. E perché la gente non riuscita a caricare i calci e adesso non faccio. Quindi 10. Match point, Forse di Foroni. Stop. 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 Grazie.